Allora, sono qui con Gino, il grande patron della Sheer Safety Conant Perugia che è una squadra che allora, lui non lo so, però la squadra che allora mi raccomando seguite il Volley Perugia perché è una roba che è... Ma non è la Safety Conant Perugia, è la Safety Car! Safety Car! È la Safety Car! È matto, matto! Va bene, comunque è stato un gran piacere che stasera a inaugurazione della stagione in presenza di tutti quanti gli sponsor in questa bellissima serata al Quattro Torri di Perugia abbiamo avuto ospite nostro Paolo Cevoli! Paolo Cevoli, un grande, grande personaggio che io l'ho presentato come uno che voleva venire a fare il giocatore con noi, però comunque sarà un grande, grande tifoso e questo è già dato. Forza ragazzi! Forza! Forza Sizema di Conant Perugia! Forza Gino!